Il piatto che andiamo a presentare quest'oggi è un po' lo speziato con del riso nocciolato. Andiamo a precuocere il riso all'interno di un'acqua salata, scegliamo un riso basmati e nel frattempo andiamo a preparare un pesto con delle nocciole. Andiamo a frullare insieme all'olio extravergine d'oliva. Una volta pronto il nostro riso andiamo ad amalgamare insieme a questo pesto che abbiamo preparato a base di nocciola. Nel frattempo andiamo a prendere il nostro pesto di pollo, lo tagliamo a listarelle, prepariamo un soffritto a base di scalogno o altrimenti di cipolla rossa di tropea. Lo facciamo appassire all'interno di un filo d'olio e andiamo ad aggiungere il nostro pollo. Lo facciamo leggermente rosolare e andiamo ad aggiungere il nostro pepe di Sichuan, del curcuma, della cannella e del pepe nero normale. Andiamo a bagnare il tutto con del latte di cocco, aggiungiamo lo yogurt intero, facciamo ristringere la salsa e procediamo all'impiattamento.